Ottime sensazioni su questa squadra, stiamo divertendo tanto, stiamo spingendo ogni giorno, ha una squadra composta da guerriere, si vede ad ogni anninamento e questa cosa è veramente motivante per continuare ad allenarsi al meglio e insomma ci prepariamo per l'inizio della stagione e direi molto bene. Come ti aspetti questo campionato, domanda canonica a questo punto? Allora ho imparato a non aspettarmi niente, penso che comunque il campionato di A2 si sa che è un campionato che è sempre ricco di colpi di scena, sarà un campionato tosto in cui noi cercheremo di dominare perché abbiamo le possibilità, i numeri, le altezze e la voglia di farlo, cercheremo di farlo dalla prima partita e insomma vedremo come si avvicinano alle squadre e sappiamo che comunque ogni squadra che giocherà contro di noi darà il massimo per vincere, faremo lo stesso anche noi e secondo me siamo pronte comunque per affrontare anche un campionato di alto livello. Ecco, se dovessimo valutare questa partita cosa c'è ancora da migliorare? Allora, questa è la prima amichevole, il secondo sei contro sei che abbiamo fatto finora, ovviamente c'è tutto e niente da migliorare, nel senso che secondo me per essere la prima amichevole stagionale abbiamo fatto una bellissima partita e abbiamo giocato molto bene, ovviamente sì, lavoreremo per migliorare qualsiasi fondamentale partendo però da una base ottima. Grazie.